in difesa per esempio che bastardo no guarda io l'altra sera guardavo la Juve contro il Toro con il mio Toro e veder Bonucci protestare sempre con queste cazzo di mani in aria allora dicevo mi piacerebbe avere un rewind della mia vita ritornare indietro ed essere presente nel calcio di oggi Pasquale Bruno che gioca contro Bonucci Juve Toro vedere Bonucci così tanto eccitato, euforico da protestare sempre anche quando ho queste mani in aria che sembra non so chi allora mi immagino Pasquale Bruno nel tunnel che gli dà un pugno in faccia a Bonucci gli spacca il labbro gli mettono 5 punti di sutura e così non parla per 5 mesi perché è insopportabile il suo comportamento io ero antipatico perché forse sono stato il peggiore di tutti quindi magari uno dirà vada senti chi parla però protestavo poco davo tanto però protestavo poco quindi ecco ho questo sogno nel cassetto che è irrealizzabile poi sentiremo anche cosa ne pensa Bonucci quale sarà la sua replica portare quello che vuole guarda per me però mi dà fastidio proprio il fatto che e prende